Zuccarello, Zuccaelo in Ligure, è un comune della provincia di Savona, i cui abitanti sono detti Zuccarellesi, il cui patrone è San Bartolomeo. L'antico nucleo medievale fu la capitale del Marchesato di Zuccarello, antico stato italiano preunitario dal 1300 al 1600. Cos'ha di speciale questo piccolo borgo se i registi vi vengono a girare film come Brokers, eroi per gioco, una produzione indipendente ammessa al Festival del Cinema di Roma del 2008 e gli innamorati si tengono per mano sul ponte romanico. C'è un fascino che è difficile dire, forse fomentato dalla vicenda molto sfruttata di Ilaria del Carretto che tra queste pietre e il castello di famiglia trascorse la giovinezza fino al matrimonio. E' certo che il restauro dei portici e delle facciate valorizzi la via principale, quasi a nascondere il disordine creativo dei carruggi che li intersegano. Ghiacciottolati, il fiume, le facciate in pietra aggiungono atmosfera a questo posto dove, lo si voglia o no, sempre di amore si arriva a parlare, l'amore che vince la morte, quando la voce si fa di cera e si spegne nel letto dove si sta dando alla luce un figlio. Ilaria è la donna che guarda, continua a guardarci da zuccarello perché il trascorrere del tempo ci sia lieve. Il toponimo deriva da zucco o zuccaro, che significa appoggio, o meglio collina a groppa, arrodondata. Nel 1248, il 4 aprile, venne fondato zuccarello con atto scritto dai marchesi di Clavesana da una parte e dalla popolazione della Valneva dall'altra, nel castello alla presenza del notaio Martino. In cambio di protezione, gli abitanti della valle si impegnarono a fornire la mano d'opera per costruire il nuovo borgo entro il Natale del 1249. L'atto di fondazione è conservato presso l'archivio storico del comune. Tra il 1326 e il 1335, per matrimonio, Enrico II del Carretto, di finale Ligure, acquisì zuccarello in dote. Poi, nel 1397, grazie a un accordo tra i fratelli di Enrico II, Carlo I del Carretto divenne primo marchese di zuccarello e sua figlia Ilaria sposò nel 1403 Paolo Guinigi, signore di Lucca, da cui ebbe due figli, Ladislao nel 1404 e Ilaria Minor l'8 dicembre 1405, generando la quale, però, purtroppo, Ilaria morì per le complicazioni del parto e il marito le fece scolpire, da Jacopo della Quercia, il celebre sarcofago posto nel Duomo di Lucca.